Il blocco intestinale causato da un'intolleranza alla zucca è risultato fatale ad una donna di appena 32 anni di robegano di Salzano. Marta Bianca ha accusato dei forti dolori addominali dopo aver mangiato una zucca che lei stessa aveva preparato per cena, era assieme al marito. La corsa all'ospedale di Mirano si è rivelata drammaticamente inutile, la situazione è precipitata fino al decesso. La tragedia sabato sera, poi l'autopsia ha confermato l'intolleranza alimentare alla base del malore. Di professione pitrice, oltre ai genitori, Marta lascia il marito italo-americano che per lei si era trasferito a Salzano, col quale a novembre avrebbe festeggiato il terzo anniversario di matrimonio. La coppia si era appena trasferita in un nuovo appartamento a robegano dove si è consumata la tragedia. Il sindaco Luciano Betteto ha espresso cordoglio a nome dell'amministrazione comunale. I funerali si celebreranno nel primo pomeriggio di martedì al santuario di robegano.